Spero che questa reaction vi sia piaciuta, più che altro perché è stata un po' imbarazzante Infatti, un po', con enfasi non differenze Io metterò proprio i cosi così, faccio visualizzazioni, no? Metti imbarazzante Asterisco imbarazzante Emmerizing Solo così se fanno i nomi su YouTube È stata la prima cosa che ho promesso Essere vero è l'unico compromesso Ciao Siamo arrivati a iniziare Ciao a tutti ragazzi E benvenuti in questo nuovo video Porno Perché? Hot Allora, queste due persone alla mia destra e alla mia sinistra Compreso il prete che porco tutto Prete, sei tornato sul canale, sei emozionato? Tantissimo Io no Io no perché sapete cosa hanno fatto? Lo sapete che cosa hanno fatto? Hanno pensato bene di... Vabbè, reagiamo al video Allora, tra l'altro, prima di iniziare a vedere il video, va detto una cosa In molti hanno pensato che il video fosse fake Però Ale è testimone perché dorme con me da 18 anni A me mi scoppia una bomba E aggiungo una cosa Voi il video l'avete visto tutto veloce Ma non l'abbiamo lasciato dormire per terra 10 minuti Quindi prima l'abbiamo fatto un po' ambientare col terreno E posso dire un'altra cosa? Io non l'ho ancora visto Giustamente Perché stiamo facendo dormire Io e lui non l'abbiamo ancora visto Perché stiamo facendo la reaction oggi La copertina è bellissima La copertina è... Cioè ragazzi Comunque quel... Ti dà qualcosa di più, no? Io direi di iniziare Salve discepoli e benvenuti in questo nuovo prank Sto pranzo Cioè no aspetta Ale che fa prank Ale che fa prank Prank È tardi E Federico si è abbioccato È tipo lunedventi del mattino Più o meno Adesso Poi quanto c'è mi sto dormendo a me sul filano? 10 minuti? Stai trovando l'ultima cosa Ma ho avuto neanche 30 secondi Questo è il vibratore Adesso che sto dormendo un'altra notte a casa sua Che dobbiamo fare noi? E gli fanno conoscere meglio la piscina Merde Cioè veramente fanno merde Io non so se vi ricordate Lo lascio qui sopra nelle schede Però quest'inverno A capodanno Quest'uomo Ne abbiamo fatto conoscere un John selvatico Stiamo posizionando sotto le telecamere Già tutto pronto Andremo a buttare Federico in piscina Se questo video arriva a 300 like Faremo il terzo episodio consigliato da voi Quanto sta? Pochissimo Ok facciamo arrivare a 300 like No Non ci andiamo a premare Già guardi Bella per i discepoli Ma fa come troppo ridotta questa cosa Questo scherzo fino alla fine Non ci vedo strambulare Tipo The Ring Ora è un E3 Che spettacolo Un Federico Marconi Siete niente? Eri morto C Infatti Ecco te No poi vedi come stavo a dormire Ti faccio troppo ridere quando dormo Mi fai rimorto Sì Ma che brutto Prova a vedesse Eri morto Non mi ripetete mai più mentre dormo Eri veramente morto Purtroppo è vero Eri morto sepolto Eri aiuto Ma è andato proprio Ma come No infatti voglio vedere come avete preso Ma come lo vediamo questo pesa Sono curioso di come avete preso Prima abbiamo messo un po' più spostato Perché Niente io in frattempo stavo Eri morto Eri veramente morto Perché questa era All'after Di tutte le ore di sonno Che avevi perso Quindi stai proprio crollato Nel tuo mondo Quanto cazzo pesavi Niente io proprio Ma devo poter Pure stuprare In quel momento No tipo qui ti stavi svegliando Cioè se stai lì un po' così Però poi hai chiusato Mi avete messo a dormire per terra Infatti qua ti abbiamo lasciato un po' Poi me ti abbiamo ripreso Però non è che potevo far vedere che È un cadavere Guardalo Guarda che musichetta sotto Sì 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 è un trip clamoroso Comunque siete due infamini Era fatto benissimo Ecco questo è il momento clou Questo è il momento clou Del video Leggiti Sei pronto eh E uno Non c'è stato Due Tre Che voglio capire Io quanto Dopo quanto mi ti ho svegliato Un secondo Un secondo Ero incoglionitissimo Cioè non Quello di non c'è Ma è un momento bello No ma io ero tipo confusissimo Perché Ecco Ecco Guarda adesso Guarda adesso Tu madre Mi va adesso è un po' tardi Spero tanto che questo video Guarda lo visivo Mi sa che cado Io e Alexietto Io ragazzi vi posso sicurare A quel momento stavo morendo di freddo Abbiamo fatto il Frank dell'anno Guarda che pezzo che hanno fatto Ragazzi lo sai che ci vendiremo Poverati Il Frank È l'una È l'una È uguale Sì 1 e 37 Scusate Come cazzo Ti abbiamo tipo spostato qua Tipo 3-4 volte Perché noi non ce la facciamo Che pesavi troppo Cioè tu pesi veramente un botto Ti abbiamo preso tipo Per le mani Abbiamo fatto tipo Uno, due, tre Altre io sono sbottata a ride Non ce la faccio più Comunque raga Tomo che poi muovi Lasciate like A Fede Marconi Bella per voi Poi mi raccomando Il signore vi ordina Di seguirmi su Instagram Io spero che queste cose Non gliele consigliate voi Perché la prossima volta Che cazzo gli dite Sparagli in bocca Che non lo so Ciao Noi ci vediamo In un prossimo video Bella per voi discevoli Da me a Siete è tutto Buonanotte Fate i bravi Fate i bravi Un po' Un po' Un po' ero sollevato dopo il prank Perché ho detto Almeno me l'hanno fatto Mo' non devo stare con l'ansia Che mi fanno qualche altra cosa Perché io diciamo Che a lui Gli avevo annunciato Ecco Lo sapevo io Tu sapevi tutto Sei un infame Ragazzi commentate con Hashtag Pretealeinfami È troppo Lui gliel'aveva annunciato E lui mi fa No Hashtag pretale Hashtag pretale Pretaleinfami Ecco Una nuova ship La vicina è vuota D'inverno No Coperta dal telo Anzi io adesso C'ho paura Che mi hanno buttato D'inverno No 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 Spero che questa reaction Mi sia piaciuta Più che altro Perché è stata un po' Imbarazzante Infatti Un po' Con è quasi non differente Io metterò proprio i cosi Così faccio visualizzazioni Metti imbarazzante Asterisco imbarazzante Imbarazzante Solo così Se fanno i nomi su YouTube Detto questo In descrizione trovate ovviamente Il canale del pretozzo Perché di prank non ne fa Soltanto a me Quindi andate a vedere Le bombe che crea Sempre Anche Alessio Alessio per me Oppure Ma di coppio Iscrivetevi Se non lo siete già Altrimenti Attivate la campanellina E salutatemi Tu sia con la pelata Un bacione Never give up E bella raga Ciao di cebole Bene Ciao